buon pomeriggio ben trovati ciao aizio ciao massimo buon pomeriggio a tutti quanti siamo alla fine se ultimo giorno di scuola o di suola pensando ai giocatori certi no alla fine è andata così però oggi col monza tra l'altro formazione dicevi del tutto originale no simi del tutto intrigante poi è vero che oggi è una passerella ormai il saluto qualcuno penserà agli europei qualcuno andrà in vacanza però insomma c'è ancora una posizione di classifica che a mio avviso sarebbe importante mantenere mantenere perché intanto se non altro se non altro per motivi economici e che ballano ballano qualche milione di differenza tra il terzo quarto e il quinto e il quinto posto comunque abbiamo una formazione inedita addirittura addirittura del modulo parliamo di 343 una juventus con il 343 mamma mia dobbiamo aspettare la fine del campionato per vedere questi esperimenti dopo una settimana di allenamenti stressantissimi allora abbiamo per in importa ecco per per in ad esempio potrebbe essere l'ultimo il passo del dio danilo rugani e alexandro rugani ha rinnovato alexandro record in edved parlo pareggia non può superarlo lo pareggia soltanto lo eguaglia danilo e alessandro altri due che potrebbero salutare che potrebbero salutare dopodiché ce ne sono tanti in questa squadra che potrebbero salutare abbiamo a centrocampo sugli esterni da destra a sinistra wea alcaraz fagioli ed in junior davanti chiesa milic e che non il diz pensate che non sia mai una sorpresa questa vabbè tanto è l'ultima e invece il ma sarà una roba che ho mai giocato insieme ma giocati insieme il mozza il mozza anche di palladino ci sarà resterà non resterà giocherà comunque con sorrentino 4231 dovrebbe essere comunque giocherà con sorrentino izzo gagliardini pedro pereira birindelli carboni mari colpani pessine d'ambrosio e danni mostra questa è la formazione brianzola che ricordiamo l'anno scorso ci stavo per dire ci rubò ma sarebbe stata una bugia guadagnò meritatamente sei punti contro la juventus vinse anche allo juventus stadium grande soddisfazione per loro grande umiliazione una delle tante abbiamo collezionato comunque allora il risultato sperando anche magari di divertirci e guardiamola senza impegno non si stiamo senza senza particolari ansi apprezzioni e nemmeno aspettative di vedere chissà che insomma che sia una roba un po tra serio e il faceto e lui lì sarà il giorno di motta ma forse nemmeno forse nemmeno lunedì perché adesso pare che faccia un giro in spagna dai genitori si prenderà qualche giorno e poi e poi sopra poi il tutto sarà ufficializzato bene ci vediamo dopo 18 e 45 per la consueta live pronostico non mancare pronostico non lo so 22 beh però di vincere la vabbè guarda l'altro service bilancio un altro sega fa è perfetto dai ci vediamo più tardi a dopo out